Clamorosa sentenza del Tar del Lazio, la Serie B dopo nove giornate già disputate potrebbe incredibilmente tornare al format a 22 squadre. Il Tar ha infatti accolto i ricorsi presentati dai Provercelli e dal Novara, sospendendo l'efficacia di tutti i provvedimenti sulla B a 19 squadre. In attesa dell'udienza in cui si discuterà il merito prevista addirittura a marzo, il collegio ripassa la palla alla FIGC dove nel frattempo le cose sono radicalmente cambiate. Non c'è più il commissario Fabricini ma c'è il nuovo presidente Gravina che sarà sempre battuto contro la riduzione della B a 19 ed il blocco dei ripescaggi. Viene quindi sospeso il pronunciamento del Tribunale federale nazionale del 1 ottobre che si era dichiarato incompetente a giudicare la legittimità del provvedimento sulla B a 19. Gravina quasi certamente non impugnerà il verdetto del Tar al Consiglio di Stato e la Lega di B attende quali saranno le decisioni della Federcalcio che ha convocato una riunione urgente che si annuncia lunga e delicata al termine della quale la B potrebbe tornare a 22 squadre con il collegio del CONI chiamato a stabilire a quali società aspetterà questo privilegio. Una decisione che avrebbe notevoli impatti sia nel campionato di C che in quello di B con diverse gare ormai disputate. La Lega di C nel frattempo ha rinviato i recuperi previsti per la giornata di mercoledì e che riguardavano alcune delle pretendenti al ripescaggio.